ecco qua, prende una cioccolata che abbiamo fondamentalmente solo qui allora prima l'anno si attenzione che scotta buongiorno, salve siete italiani? ok bellissimo anche io ovviamente benvenuti nei Paesi Bassi, benvenuti ad Amsterdam, benvenuti in particolare qui nel paesino dei mulini a Zandam ditemi pure se vi posso aiutare, sotto qui c'è tantissima scelta quindi se avete bisogno di una mano assolutamente chiedete vi informo anche che se volete è disponibile una piccola degustazione quindi potete assaggiare fino a tre tipi di cioccolato diverso in più c'è un'altra formula che è degustazione più se volete cioccolata calda con il nostro cacao che è speciale e capirete perché sentite anche il profumo è la cioccolata calda più buona del mondo qui ok va bene, volete assaggiare qualcosa? va bene allora partiamo dall'inizio intanto vi sta piacendo questo paesino se non avete beccato proprio la giornata perfetta con il sole, però dai ha spesso di piovere se non altro eh sì qui è molto frequente a questo tempo è normale però spero che qui a Amsterdam i Paesi Bassi vi stiano piacendo allora posso darvi del tu? ok ok volete qualcosa per voi qualcosa come souvenir qualcosa per te in particolare entrambi d'accordo e come hai visto qui le facce di prezzo sono abbastanza ampie ok sì ci sono tavolette anche da 20 euro però insomma capisco giustamente io le farò vedere un po' di tutti i tipi d'accordo e intanto le ne faccio vedere e poi si vorrà appunto assaggiarle ne dovrà scegliere insomma tre da assaggiare ok benissimo inoltre se vuole anche souvenir eccetera abbiamo anche il cacao e le nips che sono dei diciamo semini estricati cacao molto buoni ok mi dica pure allora partiamo con una cioccolata che abbiamo fondamentalmente solo qui il pack è molto carino e anche bella proprio da regalare veramente delizioso allora più o meno a latte fondente fondente ma non proprio con quelli ne farò assaggiare un po' tutti è proprio giusto per darmi l'idea questo è proprio cioccolata classica senza eh nessun gusto in particolare senza nocciole caramello praline eccetera ok allora questa è proprio questa è proprio la cioccolata che produciamo noi nella nostra azienda è quella un po' più costosa che le proporrò però secondo me è veramente molto molto valido tantissimo tantissimo sto parlando di questa le ho preso ehm per provare insomma per vedere 80% e 65% di cacao eccole qui allora appunto vede zanze e insomma fabbrica di cioccolata di zanze e pure appunto all'80% ha pochissimi ingredienti come dovrebbe essere realmente il cioccolato quindi massa di cacao zucchero burro di cacao e cacao in polvere fine fine appunto come le dicevo il pack è veramente carino e appunto mostra anche un pochino la città dei mulini questa qui che è abbastanza famosa si vede che è un pochino più ricercato e questa è veramente buonissima buonissima almeno una le consiglio di prenderla almeno di assaggiarla perché è molto molto valida e altrimenti le posso proporre ad esempio se la preferisce un pochino più dolce questa è al 65% che però non è al latte è solo un po' meno amara e questa addirittura ha tre ingredienti massa di cacao zucchero e burro di cacao fine sempre il pack è questo un pochino più chiara colore finale molto carini molto carini sì scritte in olandese insomma molto molto carino scusate anche da portarsi a casa ok allora tengo conto di questa l'ottanta va bene magari la mettiamo anche fra quelle da assaggiare d'accordo poi se vai la faccio assaggiare anche ora non c'è problema ok quella è l'ottanta andiamola ad aprire tanto appunto alcune le le mettiamo appunto già nell'assaggio ok all'interno all'interno è protetto da questa sorta di plastica come vede dentro è classica non ha non ha fantasia andiamola ad aprire che le faccio assaggiare un quadratino si è un po' spezzata ecco qua lei allora provi a passarlo un po' in tutta la bocca ok lo passi da lato a lato sul palato un po' sotto la lingua ok se vuole può chiudere anche un attimo gli occhi assaporarlo per bene perché la vista a volte come senso è molto preponderante non ci fa usare al 100% gli altri sensi quindi può chiudere gli occhi mhm com'è? scioglievolezza sì lo so non è così amare anche se all'ottante esatto ma adesso le spiegherò anche perché perché il cacao che viene usato il cioccolato in generale olandese è famoso perché viene trattato in modo diverso abbiamo sottoposto un processo diverso sia il cacao che il cioccolato per questo che è più buono mhm ok quindi lo so lo so lo so lo so davvero la pena quindi sono contenta che le sia piaciuto e mhm mhm adesso eh quindi questo magari lo teniamo da parte e nel caso appunto se vuole anche portarsela a casa e comprare una confezione sempre andando col cioccolato abbassiamo un attimino il costo e ehm andiamo con queste questa forse è la marca di cioccolato più famosa ehm al mondo quasi nel senso proprio di tavola di cioccolato è molto famosa perchè a parte che il bec è molto è sicuramente caratteristico ehm e in general poi se vuole la può fare anche personalizzata eh il costo è molto più alto quindi che questa costa circa 3 euro come barretta e personalizzata costa 9 però ci può mettere gli ingredienti che vuole le scritte che vuole quello che vuole sono molto carine come cosa ehm questa se la vorrà appunto assaggiare all'interno vedrà che è un pochino diversa allora questa è latte e caramello appunto tonis e di queste ce ne sono tantissimi i gusti quindi c'è ehm questa che ha le nocciole ehm c'è al biscotto c'è il caffè c'è solo latte c'è solo fondente c'è infiniti gusti c'è bianca infiniti gusti se posso se posso secondo me questa è molto buona quella le nocciole ehm e latte e nocciole si è molto buono anche il caramello ma forse il caramello ne è una migliore un pochino più diciamo secondo me se la cioccolata e il caramello deve essere abbastanza diciamo come dire in modo elegante abbastanza goduriosa mettiamola così quindi avere caramello un pochino di altre cose insomma questa è buona ma a livello di quantità di caramello non ne ha così tanto come altre ok quindi abbiamo appunto ehm questo tipo ma veramente ce ne sono tantissime magari dopo mi dirà appunto se ne va ad assaggiare una in particolare ho altre due marche diciamo così e due tipologie allora mi scusi mi sono sbagliata allora prendo un po' tutto da cosa partiamo ok partiamo da questa questa è al caramello salato e abbiamo anche praline di nozzole questa è quella che le dicevo è un po' più appunto golosa e tra l'altro è plant based quindi va bene anche se conosci qualcuno che è intollerato al latte o per scelta non beve latte quindi va bene quella fondente classica ma anche questa è latte diciamo così direi che è latte d'avena dentro un attimo che controllo mmm esatto esatto latte d'avena dentro questa è questa è questa è pazzesca glielo dico l'avviso e grazie a voi appunto può anche assaggiarla si chiama hands off e è molto più particolare è buono anche appunto mostrare appunto una cioccolata un po' diverso un pochino meno ricercata magari ma veramente soddisfacente per mangiare questo come vi anche dal pack vedrà è un po' meno ricercata ecco questo forse è più da prima ma sì per sé più che regalata ecco poi della della marca invece un pochino meno costosa ma sempre valide sia sempre valide semplicemente qui cambia molto il pack cambia molto il tempo di lavorazione del cacao ma comunque sono valide abbiamo questo questa è una questa addirittura da duecento grammi e è a base di frutta secca quindi abbiamo anacardi abbiamo mandorle abbiamo nozzole e anche delle praline e al latte anche questa è veramente gustosa molto molto gustosa però fra le due ti riesco questa se devo essere sincera questo personale questo è molto buono ha tantissima frutta secca un po' più piccolino abbiamo un po' più piccolino cioccolata bianca cioè cioccolato bianco e questa che è classico pur cioccolato fondente queste sono carine perché appunto sono un po' più portatili sono sempre 100 grammi ma sono un pochino più ripascabili molto belline quindi mi dica lei ne ha altre due da assaggiare e mi dica lei quale vuole provare ok ok quindi facciamo cioccolata bianca e cioccolata il caramello salato d'accordo ah quella della Toni l'ha già assaggiata non l'avevo capito mi dispiace va bene è buona quella della Toni si tonis tonis allora quella cominciamo prima quella bianca cioccolato bianco ok sono una grandissima fan del cioccolato bianco però certe persone invece sono proprio grandissimi fan non so starei fra questi o sei solo la curiosità mi ha fatto scegliere tipo di cioccolato allora vedete appunto il pack è sempre meno ricercato eccetera la barretta la barretta è appunto fatta semplicemente così le faccio assaggiare un quadratino ecco lei ok prima l'annusi mhm e poi come l'ho detto prima pian piano mhm si la cioccolato bianco ovviamente si scioglie più facilmente in bocca e è proprio un prodotto diverso un'esperienza diversa com'è? ok va bene va bene va bene quindi forse non l'ho convinto al cento per cento ci stavo anche solo provarla ma certo ma certo e poi voglio provare questo è il caravello grandissima scelta scelta azzeccatissima glielo dico già che me i si è un po' spezzata capita appunto facciamo assaggiare quelle che sentiamo che sono già spezzate come vede è sicuramente particolare anche come forma sembra quasi un alveare levato ecco come ho sentito anche dal solo non ha fatto il forte questa è molto più scioglievole questa veramente non se ne accorge neanche che si scioglie in bocca prego lo sapevo lo sapevo che questa va al 100% molto buona e tra l'altro sa proprio di latte effettivamente anche se non ha latte all'interno molto buona ok quindi mi dico poi lei prendo poi lei quella qui è un po' interessato poi mi diceva che vuole provare anche il cacao allora il cacao non è possibile provarlo così può provarlo nella cioccolata calda però può provare lì nips diciamo sono appunto semini di cacao ecco non sono proprio i semi di cacao non so come non mi ricordo in italiano come si dice gliele gliele faccio vedere comunque allora intanto per il cacao non abbiamo tantissimi tipi quello migliore qualità prezzo fra noi tanto il proprietario non capisce l'italiano quindi lo posso dire il migliore qualità prezzo è questo ce ne sono altri biologici questo è il migliore e appunto cacao e le giustamente si chiederà posso comprare il cacao al supermercato in Italia certo ma è diverso è diverso proprio anche nella preparazione dei dolci allora questo è sigillato quindi appunto non va assaggiato così va assaggiato nella cioccolata calda se lo vorrò e adesso le spiego se non ricordo la differenza fra questo cacao e quello che trovate sempre in Italia è la lavorazione infatti come saprà appunto il cacao deriva da una pianta che si chiama teobroma e il cacao dai semi in particolare questo frutto è un frutto che vira quando maturo dal giallo al rosso molto bello è una piantina piccolina con un frutto molto grande dentro si trovano questi semi che poi vanno essiccati puliti essiccati e appunto la lavorazione del cacao classico è sempre stata la stessa quindi subisce un processo quindi subisce un processo per cui viene appunto sgrassata essiccata e resa appunto polverizzata ma nel 1828 Van Houten inventò appunto un processo nuovo un processo leggermente più complesso con un passaggio in più per rendere questo cacao diverso infatti prima della lavorazione dei semi venivano appunto messi a bagno in una una miscela di sostanze alcaline e acqua in modo da proprio modificare il pH dei semi prima che venissero essiccati e appunto risipolvere questa cosa comporta comporta un colore diverso un sapore molto più ricco e meno amaro è un po' più dolce ci va molto meno zucchero e anche la lavorazione dei dolci è diversa questo cacao però è proprio pensato cioè il suo da il meglio diciamo il suo aroma il suo gusto esplode nella cioccolata calda ed è per questo che noi offriamo anche la cioccolata calda che le consiglio vivamente e quindi appunto diverso è molto difficile trovare in Italia si trova ma le conviene a comprarlo qui anche se per provarlo siamo un po' attraverso il gusto poi a casa quando si fa la cioccolata calda a rivivere questa giornata questa esperienza e l'ho convinta con la cioccolata calda va bene adesso vi mostro un'altra cosa e poi e la faccio assolutamente perché la faccio in un'altra zona allora ultima cosina che le voglio mostrare e far anche assaggiare sono queste sono le nips sentite la tal suona sono pepite possiamo aprirlo delicatamente sentite sentite intanto l'odore sono appunto queste pepite di semi di cacao che appunto al posto di essere polverizzate vengono appunto dretate grossolamente queste per me sono ideali se si vuole fare uno piccolo spuntino insomma è come prendere un cioccolatino senza zucchero senza niente proprio così e sentite l'odore l'odore è avvolgente proprio incredibile non so se chiudagli occhi chiudagli occhi l'odore il profumo è qualcosa di irresistibile per me sembra di annusare cioccolato fondente fuso questi per me sono buoni con un buon bicchiere di vino rosso bello avvolgente appunto per uno spuntino se ha voglia di qualcosa dolce di un po' di energia si prende un pezzettino di questo speciale mi ne faccio assaggiare proprio giusto un po' solo ecco qua prenda pure chiudagli occhi no no queste si sciogliono pian piano lo so io ogni volta a casa ne porto scatole e scatole e scatole di questo perché è speciale e sapevo che l'avrei convinto anche su questo che ti avrei convinto allora adesso direi che possiamo spostarci nella zona della cioccolata calda seguim pure ok eccoci qua come vedi lì c'è la macchinetta però ho visto che in realtà hanno appena fatto una cioccolata calda e all'avena con cioccolato con la bevanda d'avena è qua pronta se la vuole subito altrimenti gliela faccio con latte classico per aspettare due o tre minuti va bene questo ok allora attenzione che scotta ok com'è io l'ho detto è speciale lei riuscirà di qui con il sacchetto pieno di cacao nips tavolette di cioccolato non si sfugge non si sfugge è inutile ok perfetto allora adesso io la lascio al suo shopping e poi appunto la cassa è qui se vuol tornare ok va bene se non ce ne becchiamo buon viaggio buona giornata godetevi questo bellissimo paese perché è meraviglioso benissimo arrivederci arrivederci grazie a tutti grazie a tutti